Buonasera amici del Terme Padre Center, siamo qui con la coppia Mia Pecci, grande vittoria all'esordio contro Del Benedetto alias Chetira e Gianluca, che match hai visto Federico? Un match complicato, soprattutto il primo set molto difficile, erano andati anche sotto 4-2, poi siamo stati da per rimontarlo e poi abbiamo vinto la partita. Commento anche di Pecci sul match? Bella partita, loro giovano bene, siamo divertiti, sono contento che Federico è venuto, adesso tornerà a casa due giorni, si guarderà la famiglia e per lunedì... Per lunedì cominciamo a lavorare, testa la partita della prossima settimana. Anche in amichevole, bella suonata, gli avete dato 4-7-0. Sì, abbiamo in amichevole amicizia, non conto. Poi quando contava abbiamo vinto uguale. Che prospettiva avete per il campionato e soprattutto il derby con Maccio Ruzzi, che ancora infortunati, non so, ma che sport giocano? Non lo so, io infatti volevo spendere due parole per questi due giocatori, perché venivano da un periodo molto difficile, non so, seguirsi gli infortuni, insomma, non è stato facile per loro. Mi hanno detto anche a Castiglione, hanno rubato la partita? Anche a Castiglione. Però dai, aspettiamo presto in campo, sono vicino e rientro, non vediamo l'ora di giocarci contro, anche se ovviamente saranno sconfitti in maniera proprio malamente. Due parole sulla coppia? Ma sono due buoni amici, penso che può bastare. Il padre è un'altra cosa. Si avuta ai primi posti della classifica? No, non lo so, adesso pensiamo partita dopo partita, ci riposiamo due giorni e dall'undi penseremo alla partita della prossima settimana. Vi ringrazio per l'intervista. Ciao, grazie.